Sulmona è presente nello speciale dedicato al weekend di Pasqua sul numero febbraio-marzo della rivista Dez Italia, dove figura nella top 10 delle città dell'arte, della fede e del folklore insieme a Varallo, Bormio e preceduta da Firenze. A darne comunicazione l'ufficio turistico comunale, che ha collaborato con gli autori fornendo tutte le informazioni utili per la realizzazione dell'articolo. Il personale dell'ufficio invita Sulmonesi e nonna a sfogliare la rivista. Nell'Italia da scoprire a Pasqua, questa volta infatti c'è anche Sulmona. Tutto il fascino della bella città d'Abruzzo fa mostra di sé in doppia pagina, nel nuovo numero del magazine di turismo dedicato a Belpaese, dove ampia la panoramica sulla storia millenaria di Sulmona e il suo ricco patrimonio architettonico, i prodotti tipici e l'artigianato, con uno speciale zoom dedicato alle famose celebrazioni e riti della settimana santa con la Madonna che scappa in piazza e il chiaro invito a prendervi parte. La corsa della Madonna, che è l'immagine che per Antonomasia si associa alla Pasqua sulmonese, rimette in auge quella che è una settimana molto importante per la città, innanzitutto sotto il profilo spirituale. Anche l'aspetto economico non è da sottovalutare. Gli ultimi studi condotti dal docente Tommaso Palini confermano che la settimana santa a Sulmona movimenta 4 milioni di euro, un vero e proprio tesoretto per l'economia cittadina e del comprensorio che va valorizzato e potenziato. Gli ultimi studi condotti dal docente Tommaso Palini confermano che la settimana santa a Sulmona